coach vitali buonasera siamo qua al termine del match contro perugia è arrivata alla quinta partita disputata lo possiamo dire perché era la sesta di campionato ma con trimola è stato rinviato il match la prima vittoria in serie b1 per la lardini filottrano al tie break questa volta ci ha sorriso dopo il termico iesi che non c'era andato bene il tie break stavolta è stato davvero una gioia per tutte le ragazze ecco ti vorrei chiedere anzitutto un po le emozioni dalla panchina che effetto fatto che effetto è stato per il gruppo per tutti voi che avete lavorato interrottamente tutti questi mesi ma ti dico la verità fino all'ultimo punto eravamo sia io che davide super concentrati sulla partita poi alla fine un'emozione così grande un attimo pensato va veramente vale mesi e mesi lavoro due punti valgono per sei mesi di lavoro che abbiamo fatto fino adesso quindi la felicità è tanta tanta e penso valga per me valga per davide valga per le ragazze valga per lo scout man luca per tutti che siete operati a fa a far sì che questa vittoria fosse possibile senti noi solitamente con led coach ne approfittiamo di questo momento anche per analizzare un po il match no allora tu che tra l'altro tiene anche i numeri in mano hai visto un po l'andamento della della partita una filottrano che è partita molto bene primo set come si chiedeva anche in settimana poi si è un po smarrita per strada tra il secondo e il terzo e poi è riuscita a ritrovarsi cosa è mancava alla lardini cos'è riuscita a ritrovare cos'è che ha funzionato particolarmente stasera guarda siamo partiti bene perché in settimana abbiamo lavorato tanto sulla tattica e tanto sulle partenze delle partite ok poi dopo purtroppo gli avversari tutta gente molto esperta loro cambiano devi essere bravo a cambiare hanno cambiato su chi batte hanno cambiato modo di attaccare e quindi poi siamo noi che siamo stati bravi di nuovo a ricambiare e se riesci a fare questo tipo di gioco spesso e volentieri vinci anche contro squadre più blasonate di noi e tra l'altro direi la giovane età si è vista in qualche momento in qualche ingenuità però poi alla fine queste ragazze stanno imparando in fretta no è cresciuto tanto questo gruppo è cresciuto tanto qualche ingenuità c'è noi ci arrabbiamo ma non si può fare niente la squadra è questa quindi lavoriamo e i risultati arrivano quindi siamo felici io tantissimo davide penso più di me quasi lacrime quindi una gioia immensa riccardo tanto tanto bello stico giorgio davvero congratulazioni e complimenti per questa vittoria vediamo davide dietro le quinte davvero che freme e quasi non si tiene adesso un attimo di festeggiamento lo avrete no sicuramente e poi ritornerete di nuovo in palestra lavorare qual è l'obiettivo che vogliamo dare ai nostri tifosi provare a continuare così su questa strada ma sicuramente io credo che da adesso in poi ma noi andavamo certi la squadra crescerà poi i risultati purtroppo squadre esperte squadre vi attrezzate possono sempre metterci in difficoltà però noi continuiamo a crescere stiamo facendo bene tante cose non dobbiamo migliorare altre oggi abbiamo capito qualcosina che non va no su certe situazioni e quindi proviamo a fare sempre il massimo perfetto congratulazioni complimenti ragazzi grazie 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 grazie